La transizione energetica basata sulle energie rinnovabili è inarrestabile, ma l'addio ai combustibili fossili sta avvenendo troppo lentamente. È il messaggio uscito del nuovo report World Energy Outlook 2023 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Nel 2030 le energie rinnovabili rappresenteranno l'80% della nuova potenza elettrica e forniranno metà dell'elettricità mondiale. Attualmente, tuttavia, le emissioni climalteranti sono ancora troppo elevate per impedire che le temperature supirino la salida chiave di più 1,5 gradi centigradi.